Amici sportivi appassionati di calcio, benvenuti al Camp Nou, un saluto da Fabio Charesa e Beppe Bergomi. Con il 22, Edith Alivani, con il 6, Xavi Hernández, con il 17, Busquets. Comincia la partita per il Barcellona. Xavi, David Villa, Sergio Ramos. Un'azione d'attacco davvero pericolosa. Sergio Canales, Pedro León. Pedro, David Villa, intervento che viene giudicato irregolare. Accentato da Sergio Ramos, buono il suo intervento. Sergio Ramos, Traversone in area. Attenzione solo, tiro centrale che non impensierisce il portiere. Traversone, riescono a chiudere. Gioco di passaggi, campo centrale, facile per il portiere. E il Milan va in via all'incontro. Cerca di controllare bene Ronaldinho. Cerca un barco Ronaldinho. Borriello. Flamini. Può buttarla in mezzo. Panifica l'azione avversaria. Wesley Schneider. Palla fuori di un niente. Vai tu. Cambiasso. Wesley Schneider. Goran Pander. Buon possesso di palla alla ricerca di Varchi. Perde il contatto. Palla in area. Provo con la testa. E guadagnano un calcio d'angolo. Vieni gioco. Vieni gioco. E palla pericolosa. Si libera dell'avversario. Uscita a palanga del portiere. Goran Pander. Effetto attraversone. La colpisce. Palla che termina all'ultimo. E tu. Cambiasso. Minito. Goran Pander. Il cross finisce al difensore. Cerca di controllare bene Ronaldinho. Calcio d'inizio per la Spagna. Ciao, vi appoggio al compagno. Sergio Busquets. Iniesta. L'arbitro concede il vantaggio. Guadagnano campo. Lo ferma, ma non controlla. L'arbitro è estratto il giallo. L'allenatore della Germania non sembra essere troppo felice. Questo cartellino potrebbe condizionare la partita. Sì, entrambe le squadre hanno combinato davvero poco, Fabio. La Spagna. Tira di testa. Palla persa da Ballack. Riesce a trovare lo spazio buono. E lo spunto viene stop. Occasione in vista. C'è il cross. Colpo di testa che sorbolla la traversa. Non si è coordinato bene. Ha colpito troppo sotto. Grande occasione sprecata. Rimessa da fondo. Devono sfruttarla al meglio. Palla intercettata. Ha spazio davanti a Sì. Ed è gol! Torna in rete! E di sicuro Torres e Nigno non è il nuovo gol di questo tipo. Ha dimostrato ancora una volta tutte le sue qualità. Ha dimostrato ancora una volta.